buongiorno a tutti proseguiamo le nostre schedine e bollettine del gigione con il campionato tedesco ho fatto il video sull'anticipo del venerdì per campionato tedesco inglese e spagnolo che c'erano addirittura due partite che si giocheranno appunto questa sera e poi anche la serie b che si giocherà appunto questa sera o se lo vedrete sabato ieri sera perché io lo sto facendo adesso sono le sette e mezza di sera del venerdì ma ora che si carica sarà già finite le partite probabilmente quelle lì quindi partiamo subito con la nostra schedina e bollettina cominciamo con la schedina allora bayern l'everkusen ertha berlino 1 l'ipsia berder brema 1 stoccarda stoccarda schalke 04 1 2 così a blast a 9 r düsseldorf 1x norimberg a friburgo 1 2 e intrac bayern monaco is due ausburg bosburg 1 2 e offena in mainz 1 veniamo alla schedina anzi bollettina alternativa bayern l'everkusen ertha berlino 1 l'ipsia verder brema 1 li lascio invariati stoccarda schalke 04 un bel gol ci cammita a pzello come direbbe abbattanto anello a nover düsseldorf over 1 e mezzo norimberg a friburgo over 1 e mezzo a intra francoforte bayern confermo l'x2 ausburg bosburg ci metto un bel gol che secondo me ci casca a pzello e offena in mainz un bel over 1 e mezzo veniamo alle mie 6 solite bollettine partendo subito da bayern l'everkusen ertha berlino 1 l'ipsia verder brema 1 a intra francoforte bayern monaco 2 e offena in mainz 1 con 5 euro se ne vincerebbero 28,77 schedina alternativa allora io ero incerto tra bayern l'everkusen ertha berlino e entra francoforte bayern monaco dove mettere la x ho deciso di metterla a intra francoforte bayern monaco ma volendo potete metterla anche a bayern l'everkusen ertha berlino scegliete magari voi comunque bayern l'everkusen berlino 1 l'ipsia verder brema 1 a intra francoforte bayern monaco x2 e offena in mainz 1x con 5 euro se ne vincono 16,08 se vogliamo elidere la x su a intra francoforte bayern monaco giocandoci il 2 in questa schedina con una sola doppia alla fine si andrebbe a vincere 21 euro e 86 terza bollettina bayern l'everkusen ertha berlino 1 più over 1 e mezzo l'ipsia verder brema 1 più over 1 e mezzo a intra francoforte bayern monaco mi gioco l'is 2 più over tra visto che tanto c'è l'over che mi alza un po la quota e offena in mainz 1x più over perché il mainz ogni tanto gli scherzettini di andare a pareggiare dove teoricamente potrebbe perdere li fa sempre e quindi mettiamoci una bella x con questa metodologia con 5 euro se ne vincono 24 e 90 quasi cinque volte quello che si gioca quindi non è male non è tanto però chi sia contenta gode bayern l'everkusen quarta bolletta bayern l'everkusen ertha berlino gol ospite l'ipsia verder brema gol ospite a intra francoforte bayern monaco gol casa e offena in mainz gol ospite con 5 euro se ne vincerebbero 17 34 quindi diciamo che sia questa che la precedente sono delle bollettine che potrebbero anche uscire con buona possibilità e ogni tanto le prendo quinta bollettina gol più over bayern l'everkusen ertha berlino gol più over l'ipsia verder brema gol più over a intra francoforte bayern monaco gol più over e offena in mainz gol più over in questo caso stranamente cosa rara eccetera il gol più over è favorito anche molto nettamente in alcuni casi rispetto al no gol più under quindi diciamo che è una bollettina fattibile con 5 euro se ne vincono quasi 50 49 97 i gol più over di solito quando le gioco tutte e quattro superano sempre i 100 euro perché spesso e volentieri qualche qualcuna è sfavorita stavolta sono tutte e quattro favorite e in qualche caso addirittura pagano la metà rispetto al no gol più under quindi vuol dire che ci sono buone probabilità e quindi per onde per cui mi gioco doppiamente anche nel tricombo quindi bayern l'everkusen eltha berlino uno più gol più over l'ipsia verder brema uno più gol più over a intra francoforte bayern monaco due più gol più over e offena in mainz uno più gol più over con due euro questa schedina qui pagherebbe 103 euro con 5 euro ne pagherebbe 258 tenendo conto che è un tricombo che spesso e volentieri supera i 1000 euro se non addirittura i 2000 euro diciamo che questa è una bollettina che potrebbe potrebbe anche uscire detto questo io vi saluto vi ringrazio e successivamente farò anche il campionato francese che si giocherà domani o sabato comunque sabato sera alle 21 se non ho visto male bene buon appetito visto che sono le sette e mezza probabilmente questo video lo vedrete verso le nove e mezza 10 però sono le sette e mezza di sera quindi vi dico buon appetito ciao ciao